Per uno slancio interiore Dizionario del cerchio Firenze 77 Attraverso Roberto Setti Scuola del cerchio Firenze 77 A cura di VB In futuro l'uomo sentirà molto di più la reminiscenza di altre vite e riconoscerà per uno slancio interiore chi ha amato in altra precedente condizione Ciò sarà così diffuso che non desterà meraviglia lo stabilirsi di un rapporto umano così inteso fra tanti che non saranno legati da vincoli di sangue E come una vera madre può amare contemporaneamente più figli senza nulla togliere all'uno e all'altro così l'uomo del futuro potrà bastare appagandoli pienamente a più affetti 71D Vedi odio 101D e seguenti 272D Vedi odio Grazie a tutti